buongiorno da obiettivo news oggi 26 ottobre san folco scotti e si celebra la giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari l'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza culturale ma anche economica delle tradizioni popolari nelle diverse regioni italiane ricordare importante anzi è fondamentale e grazie alla memoria che una tradizione continua nel tempo e non si spegne nell'immediato presente si tratta di un processo emozionale simbolico il fine della giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari è proprio quello di tenere viva la memoria delle nostre tradizioni regionali e locali sagre processioni rituali balli costumi racconti popolari conoscere le proprie tradizioni importante per trasmetterle alle future generazioni ma anche per farla apprezzare dai turisti e dagli stranieri in viaggio nel nostro paese grazie a tutti